Il Paradiso 9, ipotesi nuove puntate, Matteo mette in pericolo la vita di Guarnieri. Nelle puntate del Paradisi delle Signore 9 non si esclude che il ritorno di Matteo Portelli a Milano possa celare anche un desiderio di vendetta nei confronti di Umberto Guarnieri. Nel corso dell'ultima stagione trasmessa su Rai 1, il commendatore si è preso gioco di Matteo tenendolo sotto scacco con i suoi ricatti e portandolo a ingannare il fratello Marcello in merito al caso Ofer. Adesso che la verità è venuta a Galla Portelli potrebbe vendicarsi, magari mettendo in pericolo la vita del suo nemico. Umberto si è preso gioco di Matteo e Marcello Umberto, pur di rovinare la carriera e la credibilità di Marcello, aveva organizzato una truffa ai suoi danni facendolo cadere nell'inganno del caso Ofer. Il ragazzo essi è ritrovato così a fare un investimento sbagliato, che gli ha fatto perdere dei soldi e l'ha portato a dare le dimissioni come amministratore del patrimonio della contessa. Un piano architettato a tavolino da Umberto che, pur di non fallire il suo intento, ha scelto di coinvolgere anche Matteo Portelli ritettandolo, se sarebbe stato al suo fianco. Gli avrebbe dato la possibilità di portare la mamma in America per sottoporla all'operazione che esigeva urgentemente al fegato. Matteo ha accettato, però Flora e Marcello hanno scoperto la verità sul conto di Umberto e non si sono fatti problemi a sbugiardarlo. Matteo mette in pericolo di vita Guarnieri, ipotesi trame il paradisi delle Signore Nove nella nona stagione è previsto il rientro in scena di Matteo Portelli, dopo un breve soggiorno a Parigi con Maria Puglisi, sarà pronto a riprendere in mano la sua vita milanese. Dietro questo ritorno potrebbe celarsi anche un desiderio di vendetta nei confronti di Guarnieri. L'intento di Matteo potrebbe essere quello di allearsi con Marcello per dargli una dura lezione per tutte le malefatte che lo hanno visto protagonista. Non si esclude che Matteo possa ricorrere anche a dei metodi poco ortodossi pur di punire Umberto, servendosi di loschi uomini che potrebbero arrivare a ferirlo, mettendo a rischio la vita del commendatore. I fan speravano di vedere le repliche per tutta l'estate una nuova stagione che non deluderà le aspettative dei fan, molti dei quali speravano di poter vedere in onda le repliche per tutta la stagione estiva. Dopo la riproposizione degli episodi della seconda stagione, la Rai ha scelto di fermare le repliche in daytime, al suo posto in onda l'anteprima di estate in diretta con Nunzia de Girolamo, che in queste settimane ha registrato ascolti inferiori a quelli della SOP.